La figura di Giovanni è da esempio per tutti i cristiani. Celebrando la messa mattutina, Papa Francesco ha analizzato la testimonianza del Battista, richiamando soprattutto la sua capacità di abbassarsi, annientarsi per indicare Gesù. Lui era la lampada, ma non la luce, ha detto il Pontefice, la fiaccola che indicava dove era la luce. E questa testimonianza provvisoria, ma sicura, forte, quella fiaccola che non si è lasciata spendere dal vento della vanità, quella voce che non si è lasciata diminuire dalla forza dell'orgoglio, diviene sempre uno che indica l'altro e apre la porta all'altra testimonianza, quella del Padre, quella che Gesù dice oggi. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni, quella del Padre. E Giovanni, il battessatore, apre la porta a questa testimonianza e si sente la voce del Padre, questo è il mio figlio. È stato Giovanni a aprire questa porta. È grande questo Giovanni. Sempre si lascia da parte. È grande questa porta. Sì, sì, è grande. È grande. È grande. Grazie.